purtroppo giornata uggiosa qui a pacienza alla partenza della quarta tappa del giro d'italia siamo qui con il direttore commerciale della germo walter parenti nuovo sponsor che fornisce al nostro team per quest'anno prodotti disinfettanti sì buongiorno vi presento anche il nostro agente per la gdo il dottor roberto ivone siamo molto contenti di essere qui e di potervi garantire la massima protezione per tutta la squadra e tutti gli atleti così come pensiamo di farlo sempre anche con tutti i nostri clienti sappiamo perfettamente che i vostri prodotti sono altamente affidabili ci spiega il perché cortesamente certamente i nostri sono tutti prodotti certificati registrati come presidio medico chirurgico e sono il frutto di pluridecenale esperienza per la sanità quindi tutti disinfettanti e non solo banali igienizzanti in effetti in questi giorni abbiamo avuto davvero modo di verificare l'alta qualità dei vostri prodotti dove si possono acquistare beh noi siamo già presenti in tanta gdo nazionale ad esempio come se lunga poi con questa pandemia la pandemia ci ha dato modo di ampliare i nostri clienti e adesso ci trovate in coppi per benne tunes e altri 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 ancora sicuramente siamo anche con la nostra linea professionale da bricome nel centro della bricolage e con la linea per l'oreca anche nella cash and carry della metro dunque dottore ivone ci può dire cosa si vende oggi certo di sicuro anche se la giornata non lo dimostra sarebbe la stagione per il nostro spray per i climatizzatori è uno spray disinfettante ideale per igienizzare e sanificare i filtri dei climatizzatori poi avremo anche uno spray multiuso per superfici molto semplice da usare praticissimo le nostre salviettine disinfettanti che sono biodegradabili compostabili i prodotti per il bucato ne avremmo tanti altri anche i gel che sono qua esposti che sono molto efficaci e perfetti per l'igiene delle mani in questo periodo complimenti alla germo a questo giro d'italia con i prodotti di germo la squadra starà tranquilla sotto tutti i punti di vista perché la disinfezione che la germo garantisce al nostro team sarà eccellente